Non hai idea di quante volte io abbia sentito dire la frase non riesco a dimagrire perché ho il metabolismo bloccato? Mannaggia! Il metabolismo è l'insieme delle reazioni chimiche di costruzione e di distruzione delle sostanze endogene ed esogene di un organismo ed è estremamente complesso e dipende da tantissimi fattori. Il metabolismo non è un ingranaggio che si può bloccare, quindi se sei in sovrappeso smettila di dare la colpa al metabolismo perché di colpe non ne ha. Smettila di cercare soluzioni in una pillola miracolosa o di pensare che il metabolismo si possa fermare perché c'è solo un momento nella vita nel quale si fermerà veramente che è la morte. Il metabolismo bloccato non esiste, è solo un ottimo paravento dietro il quale nasconderti per non assumerti le tue responsabilità. Mi dispiace molto amica mia dovertelo dire ma è uno sporco lavoro che prima o poi qualcuno doveva fare. Il tuo metabolismo è sempre in movimento ed è diciamo più o meno prestazionale in base a quanto tu ti muovi. È direttamente proporzionale al tuo movimento. È tutto molto ma molto semplice e adesso ti spiego come diventare una macchina brucia grassi e dimagrire alla velocità della luce. Ci sei cascata, vero? Ti ci vedo lì col ditino a spippolare per far ripartire il video. Era una simpatica gag. Vabbè, ritorniamo al metabolismo. Per accelerare il tuo metabolismo devi semplicemente allenarti tanto e mangiare tanto. Ed è qui che sorge il problema. Sì, ma cosa significa allenarsi tanto? E cosa significa mangiare tanto? Ok, ti rispondo subito. La risposta univoca non esiste e dipende dal tuo punto di partenza. Logico che se il tuo passatempo preferito fino ad oggi era fare la controfigura di un divano a Cinecittà anche fare mezz'ora di camminato tutti i giorni per te rappresenta un'attività no limits. Se invece già ti alleni e stai facendo qualcosa devi semplicemente fare di più. Hai bisogno di aumentare gradualmente la quantità di allenamento che stai facendo e altrettanto gradualmente aumenterai la quantità di cibo contestualmente con la qualità del cibo che mangi. Devi mangiare di più ma meglio. Ricordati che la parola metabolismo deriva dalla parola greca metabole che significa cambiamento. E se vuoi diventare veramente una donna magra, bella, tonica e in forma per sempre lo devi accettare il cambiamento. Devi cambiare le tue abitudini di vita. Devi cambiare il tuo modo di allenarti. Devi incominciare a muoverti di più anche nella vita di tutti i giorni. E devi cambiare anche la tua strategia alimentare. È tutto qui. Non c'è niente di difficile in tutto questo. Se non fare il primo passo per dire addio all'ozio, alla pigrizia, al cibo spazzatura, alle scuse.